Grazie a tutti. Sì, magari, sarebbe una bellissima cosa, solo che è un po' difficile quei tempi che corrono. I tempi che corrono, adesso con i tempi che corrono andiamo a investigare con la nostra Benebanca, la banca di credito cooperativo di Benevagenna, abbiamo un suo giovanissimo rappresentante che ci dice come potremmo dare una risposta positiva per andare incontro a un sogno di un giovane del territorio. Ciao a tutti, innanzitutto mi chiamo Sergio Bellonotto e lavoro alla Benebanca. Per la giovane imprenditoria sì, ci siamo, siamo sul pezzo, come si dice. Tu intanto hai 17 anni, quindi bisognerebbe iniziare ad aprire un rapporto con la banca. Noi siccome sei minorenne abbiamo l'opportunità di aprire un conto corrente a zero spese, ti paghiamo anche i bolli di legge, ti diamo anche il bancomat che inizia un pochettino a farti crescere, a vedere un pochettino come gestire il tuo budget. Dopodiché si inizia pian pianino, quando sarai lì per iniziare un'attività, tanto devi avere 18 anni, sarai già nostro cliente. Da lì diciamo che, non ti dico che sarai in discesa perché al giorno d'oggi lo sai anche tu che è dura, però siamo al tuo fianco. Anche perché siamo una banca territoriale, noi abbiamo una sede a Benevagenna, le filiali sul territorio, a Piasco, Centallo, Narzolo, Narzolo, Saluzzo. Siamo simpatici a tutti, non possiamo esserlo perché non si può, però se non ci comportiamo bene con i nostri clienti, i nostri clienti magari la domenica mattina escono da messa e dicono ma è quella banca là e siccome noi lavoriamo molto sul passaparola, insomma vedrai che ti troverai contento. Quindi con Benebanca anche i sogni dei giovani possono crescere bene e noi glielo auguriamo davvero. No, ok.